ciao a tutti sono Ilaria ho 41 anni e abito in provincia di Novara sto frequentando il corso impara inglese con Monica da fine marzo del 2020 mi sento di consigliare questo corso a tutte le persone che vogliono imparare l'inglese e a tutte le persone che in passato hanno frequentato corsi come me senza vedere risultati spennendo soli per niente sostanzialmente perché questo corso non è come gli altri che trovi in giro quindi la differenza sostanziale sta nel fatto che c'è Monica che ti segue quindi per me è un valore aggiunto molto importante visto che io negli altri corsi che ho frequentato mi sentivo sempre un po abbandonata con il libro e manuale che trovavo invece qui ho proprio la possibilità di confrontarmi un po se ho bisogno di informazioni personali o un po tramite tutte le attività che Monica regolarmente ogni settimana propone quindi un corso interattivo è un corso stimolante è un corso sfidante insomma tutte le carte in regola secondo me per per avere per essere un buon corso io lo consiglio vivamente e niente speriamo di vederci in classe ciao